ciao a tutti dal festival della diplomazia e dalla scuola sulla complessità questa è una nuova conversazione di insomma ma insomma giorgia insomma che introduce apre a problemi senza soluzione apparente ti presento per chi non ti conoscesse sei un molto molto noto al festival della diplomazia in tutte le conversazioni o in quasi tutte direi in tutte oso dire in tutte le conversazioni che negli anni abbiamo fatto insieme alla scuola sulla complessità per il festival della diplomazia hai portato la tua esperienza giorgia pontetti stavo per dire di giorno e di notte ma è un po così perché per buona parte della settimana ormai sospetto per tutta la settimana imprenditrice innovatrice dello spazio tu lavori a componenti elettroniche di micro elettronica alla costruzione di satelliti preordinati all'esplorazione spaziale o comunque a annessi e connessi dell'esplorazione spaziale ma sei anche un'imprenditrice della terra quindi con i piedi ben saldi sulla terra e tu a un'attività recettiva e di azienda agricola dove però chiaramente mica si possono fare le cose così vanno fatte per bene come se si dovessero fare su marte tanto che fai idroponica i due pomodori sono andati nello spazio con noti astronauti e stai lavorando seriamente e stretto senso a dei programmi spaziali per capire come perché perché ce lo diremo adesso come coltivare su terre inizialmente apparentemente oppure inizialmente in ospitali tipo marte la suggestione a questo punto con te non avendo il tempo di poter approfondire alcunché di quello che che diciamo viene dopo che abbiamo parlato di dinosauri abbiamo visto l'umanità allo specchio quando ancora forse non esisteva il tempo di dinosauri se non per piccoli overlap per piccolissime sovrapposizioni comunque ancora in discussione in ambiente scientifico abbiamo parlato di realtà di fiabba se la realtà è quella digitale se la realtà è quella fisica abbiamo parlato di lisergie di ecologia abbiamo provato a capire come quella che qualche è per noi la realtà si può comprendere se si comprende attraverso i paradossi gli opposti le sovrapposizioni ne abbiamo parlato in termini fisici quantistici per figurarcelo nella nostra vita comune nel nostro come dire comune sentire a tutti a tutti gli effetti ne parleremo anche in termini biotecnologici il tema guida è comunque un problema che apre altri problemi ora secondo il tuo portato qual è la sfida epocale che stiamo fronteggiando della quale ti senti chiaramente parte nel cercare di dare una risposta e qual è il problema che una volta anche quello più impossibile quello utopistico quello che a tavola con gli amici dici ma ti pare che oppure pubblicamente dichiareresti ma ti pare che una volta risolto ne aprirebbe un altro e di tipo nuovo ti ringrazio come al solito per avermi invitata e per queste domande che sono sempre molto ben mirate e sempre complesse anche nella risposta no diciamo che io come sai e come ben detto sono una dicotomia vivente no i piedi ben piantati a terra ma la testa nello spazio quindi la testa in aria e quindi stante proprio questo sai la me l'idea è nata dallo spazio non abbiamo parlato tante volte pensiamo tanto a quando andremo sulla luna e su marte ma spesso ci dimentichiamo di prenderci cura del nostro di pianeta che è uno e che in questo momento dovrebbe essere il nostro obiettivo principale no quindi io ancora credo che le innovazioni tecnologiche che vengono dallo spazio e che migliorano la vita del cittadino non dovrebbero migliorare solo la vita del di chi vi abita ma preservare il pianeta quindi credo che la sfida più grande che ci troviamo di fronte oggi parlo da agricoltore no è quella di dire eh ci sono i cambiamenti climatici c'è il mondo sta cambiando sta cambiando anche la cultura sta cambiando anche eh l'obiettivo di vita dei giovani no domani chi lo farà il contadino chi mangia chi coltiverà quello di cui avremo necessità per mangiare quando saremo tantissimi sul nostro pianeta e questo è un tema che non per per forza la risposta è l'idroponica io la mia è la una declinazione no ma credo che giustamente quando dici si risolve un problema risolvo apparentemente un problema ma poi ne scatena un altro è molto vero no la rivoluzione verde quando in agricoltura è stata meccanizzata sembrava che avremmo risolto il problema di mangiare tutti tanto però nel frattempo ci siamo portati dietro il problema della chimica che quindi ci fa mangiare tanto ma non è più sano quindi la risoluzione di un problema ne ha portato un altro no quindi io mi auguro nel futuro che unire la tecnologia quindi la tecnica le nuove tecnologie quelle che oggi non conosciamo e che avremo devono avere l'obiettivo comunque di preservare prima di tutto il nostro ecosistema e quindi l'uomo nell'interazione con il proprio pianeta questo mi richiama l'idea no no hai risposto peraltro richiami a questo punto eh devo dire naturalmente altre conversazioni ne prendo una quella con Giuseppe Barbera in cui abbiamo parlato di di paesaggio di paesaggio e cultura di semi l'abbiamo titolata semini questi questi semi eh quelli arcaici quelli antichi e quelli nuovi oggi eh sono proiettati in una nuova declinazione un tuono un tuo stesso termine una nuova declinazione anche di di tecnologia di combinazione genetica prima era forse ancora grossolana era troppo rischiosa confermi che oggi l'OGM il tanto discusso OGM eh si apre una fase nuova di maggiore accuratezza di maggiore eh raffinatezza di quel codice genetico che può essere più sano di quanto non lo sarebbe stato o sano tu cur io sono di questo avviso e quindi credo che oggi questa preclusione verso l'OGM che si è fatto una pessima nomea negli anni passati perché era molto prematura e come tutte le cose tecnologicamente avanzate ma nuove scatenano anche nell'utente finale un po' di timore un po' di incertezza un po' di dubbio lo scetticismo fa parte dell'uomo sulla novità no? Però proprio il progresso tecnologico da questo di punto di vista aiuta ti faccio un esempio eh oggi non si fa la non si stampano cellule vegetali si stampano prettamente cellule animali con l'obiettivo domani di stampare anche organi artificiali no? In 3D e quindi poter risolvere alcuni problemi di scarsità di organi per chi ne ha bisogno ma se noi pensiamo alle piante le piante hanno delle capacità incredibili per cui se noi riuscissimo non ti parlo solo di modifiche genetiche ma anche banalmente con l'idroconica cambiando le condizioni al contorno la pianta è un essere vivente quindi cambia il suo comportamento e ottiene un prodotto finale che può diventare curativo e quindi può immaginare con le nuove tecnologie di fare quello che gli avi facevano tramandato per via orale perché la medicina cinese è rinomatamente a base di erbe ed è rinomatamente a tradizione orale no? Noi potremmo migliorare implementare per risolvere un problema ti faccio l'esempio pensiamo agli astronauti domani andiamo sulla luna e su Marte e ci preoccupiamo di farli mangiare giusto ma se si ammalano dico dico queste sono tue occupazioni quotidiane lavorative cioè per chi per chi ci ascolta e ci vede non sono pure ipotesi queste sono tue occupazioni quotidiane tu stai lavorando anche a questo sì sì ovviamente quello di cui ti parlo sono cose appurate che si possono trovare anche in rete ti dicevo no se l'astronauta mangia bene e sano però si può ammalare come ci ammaliamo noi sulla terra chi lo dice se che i medicinali pensati e progettati e costruiti sulla terra vanno bene quando arriva in assenza di gravità e non diventano un male invece che un bene per l'astronauta che ne ha bisogno quindi anche il problema del medicinale risolto sulla terra apre un nuovo problema da un'altra parte no? Quindi se pensiamo alla necessità dell'uomo che ha di esplorare abbiamo esplorato da sempre no? E continueremo ad esplorare anche nuovi mondi nuovi pianeti dobbiamo cambiare anche il paradosso e il paradigma con il quale ragioniamo perché quello a cui siamo abituati oggi non è detto che vada bene domani e quindi ci vuole un po' la mentalità aperta da questo punto di vista e quindi condivido molto la tua sentenza che dice quando risolvo un problema l'ho risolto parzialmente perché l'ho risolto con le conoscenze di oggi ma questo non è detto che non scateni un nuovo problema domani perché non potevo prevederlo e quindi noi dobbiamo essere smart anche in questo nel capire che non esiste la soluzione assoluta esiste lo zero assoluto nella fisica ma una soluzione assoluta del problema io non credo che ci sia e quindi mi piace questa tua eh questa tua tavola rotonda virtuale di menti eterogene in settori differenti perché se noi vogliamo banalmente raccontare al mio mio nipote tuo figlio che possiamo salvare il pianeta non lo fa solo l'ingegnere c'è bisogno di una coscienza e conoscenza diffusa. E questo allora tornando un passo indietro a alla sfida globale che 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 puoi aver delineato è il tema della scarsità delle risorse infatti il viaggio spaziale di per sé e tutta la ricerca che accompagna il viaggio e l'esplorazione spaziale di questa galassia e di altre galassie deve aiutarci a trovare soluzioni per il pianeta che intanto abbiamo e che sappiamo per certo che è abitabile e vivibile. Qual è oggi secondo te una delle più grandi acquisizioni che ci portiamo un po' l'equivalente faccio per dire per per esempio per chi ci segue della che si usava fare rispetto alla formula 1 no? Ricerca sfrenata nella formula 1 dice ma a che serve tutto questo a parte l'intrattenimento? A parte che una risposta può essere l'intrattenimento in se stesso perché non è da demonizzare. La seconda cosa è che ha spinto l'industria automobilistica a tantissima ricerca. Così la ricerca aerospaziale non è questo il tempo e il modo e la sede soprattutto per affrontare il tema della popolarità e della democratizzazione di questo tipo di scelte che comunque rappresentano un tema soprattutto per le democrazie meno per le autocrazie. Vedi il rapporto tra Cina e Stati Uniti, vedi l'India, insomma è più facile prendere decisioni dove non devi rendere conto a un tuo popolo per il consenso o comunque per il common good come si dice. Detto questo qual è il punto che ci portiamo a casa più importante ad oggi rispetto alla grande ricerca spaziale, all'esplorazione spaziale che stiamo facendo? È prefigurabile pensare di includere, acquistare a una eh sorta di benessere paragonabile al nostro popolazione che oggi ne sono drammaticamente escluse? Io è quello che un po' mi auguro nel senso che la New Space Economy ha un po' lasciami dire reso più popolare lo spazio, non l'ha reso più vicino al cittadino, è diventato tutto abbastanza più economico. Oggi un satellite può essere molto piccolo, no? Parliamo di CubeSat, dieci, dieci, dieci centimetri, scatolette molto piccole, no? Che rendono quindi possibile con pochi soldi poter accedere allo spazio, ma non tanto per dire sono andato nello spazio, quanto per poterne trarre i benefici di cui stavamo parlando, no? Quindi credo che e mi auguro che questo trend della New Space Economy continui con questo in questo in quest'ottica, in quello di rendere i paesi meno abbienti o con meno conoscenza in grado comunque di realizzare missioni per il benessere del come come si è sempre detto for the humankind, no? Quindi per l'essere umano in generale a prescindere poi dalla nazione. Sai io faccio difficoltà, mi trovo disagio anche col fatto della guerra perché faccio difficoltà parlando di spazio e parlando della terra che è uno dei tanti di pianeti a parlare di divisioni, no? Siamo esseri umani tutti uguali, quindi il benessere di uno dovrebbe essere il benessere di tutti, ma soprattutto la conoscenza che è una cosa che non apprezzo, no? L'uomo deve evolvere, è nel DNA dell'uomo l'evoluzione, quindi la conoscenza dovrebbe essere condivisa e oggi questo non è proprio così, no? Beh qui c'è la grande competizione, c'è la cooperazione, anche questo è paradossale perché comunque ci sono ambiti in cui tutto il mondo realmente compete anche in modo brutale e altri in cui coopera e molto spesso anche questi si sovrappongano. Anche alla luce delle vicende più attuali, comprese le più drammatiche, alcuni programmi comuni non sono stati interrotti o comunque non sono stati eh non sono stati eh da un momento all'altro interrotti come invece è avvenuto in altri ambiti della vita della vita sociale su questo su questo pianeta. Ma sempre questo consentimi però ci dovrebbe far riflettere, no? Sul fatto che l'uomo è sempre più un essere, un animale più che sociale, un animale egoista, perché se noi tornassimo ad essere come eravamo due generazioni fa quando eravamo più poveri e meno benestanti, eh l'uomo era un animale sociale, oggi è diverso, no? Quindi se sei un animale sociale pensi al bene della collettività, se diventi un animale egoista pensi al bene proprio, questa è la grande differenza secondo me. E che lì poi ci sono eh temi di altro ordine, c'è c'è una grande eh questione culturale, c'è una questione di di civiltà, la civiltà chiaramente è una, parliamo di esseri umani ma ci sono diversi modi di intenderla, ci sono eh i grandi i grandi estremi della della sicurezza e della libertà e che anche questi debbono essere conciliati ma quella ricerca di conciliazione non è non è facile e va detto comunque a beneficio della parte di mondo nella quale viviamo a volte fin troppo bisfrattata quasi che ci dovessimo sentire in colpa per per la conoscenza che abbiamo sia pure ereditata sia pure anche questa permeata di di tanta ehm altra storia e cultura diversa altra dalla dalla nostra. Ha detto che la questione che oggi ci riguarda la più vicina è come se parliamo di occidente perché non possiamo far finta di niente comunque si tratta di conciliare una cultura senza uguali in altre parti del mondo, una cultura in termini di rispetto dei diritti umani e di eh asticella alzata su tanti diritti, non su tutti capisco e non ancora quanto lo si potrebbe ma di sicuro guardando altre esperienze con tutte le motivazioni del caso comunque ancora eh il luogo dove si può dire che diritti, doveri, libertà sono assicurati molto di più che in altri paesi che oggi chiedono un confronto a livello a livello globale appunto il tra 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 civiltà. Siamo in conclusione di questa puntata come vedi abbiamo iniziato parlando di di spazio, di di terra, di agricoltura e poi come anche in altre conversazioni abbiamo eh abbiamo dedotto o siamo arrivati a a questioni che non possiamo affrontare se non eh menzionandole tanto per dare l'idea che non viviamo su un altro pianeta perché di per sé ciascuna aprirebbe un capitolo che hai voglia a fare serie di conversazioni e richiedono tanta azione. Detto questo è possibile immaginare che una volta che si riuscirà a portare l'acqua su Marte. Sappiamo che Marte ormai eh da 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 recenti acquisizioni scientifiche ha avuto l'acqua ma poniamo il caso quindi vale il detto di portare l'acqua su Marte saremmo in grado di portarla anche in luoghi oggi sulla terra in cui l'acqua l'assenza della carenza dell'acqua è anche motivo di 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 insomma tanto tanto disagio eh drammatico disagio di di popolazioni comprese le migrazioni e se stesse. È quello che io mi auguro e auspico come sai nel senso che eh il mio filo conduttore della vita è stato proprio quello di dire vabbè ma se lo dobbiamo fare su Marte facciamolo prima sulla terra ma non perché avessi quale chissà quale velleità ma perché banalmente parlando di agricoltura oggi ti faccio l'esempio che mi è più confortevole eh se noi pensiamo al polo ai poli o all'equatore l'agricoltura diventa complicata no perché non c'è il clima mediterraneo al quale siamo abituati e quindi perché non portare una cosa che serve su Marte in Africa per evitare la malnutrizione perché non portarla al polo nord per fare in modo che in Siberia o in Alaska tutto l'anno si possa coltivare evitando che poi le merci viaggino in tutto il mondo quindi la mia risposta è sì io mi auguro un futuro del genere detto è che come al solito è un discorso molto più ampio no parliamo di geopolitica parliamo di interessi molto più grandi quindi eh poi tutto non si riduce al all'utopia che io ho nel mio sogno nel cassetto di non sentire mai più parlare di bambini che muoiono di fame me lo auguro ovviamente il pane e e la pace come come eh come anche è stato avanzato più volte anche da 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 fonti ecclesiastiche quindi non solo della società civile ma insomma da da diverse autorità religiose soprattutto quella cristiano cattolica visto che viviamo in questa parte di mondo eh sono indubbiamente dei dei driver diremmo dei delle precondizioni perché la litigiosità in generale la la quella eh insana competitività esiste anche una competitività molto sana lo vediamo quando prendiamo un aeroplano il costo del biglietto sempre per fare a soldoni ma ecco eh quello diventa lo spazio il luogo per la cooperazione che è una cooperazione più che internazionale umana tra tra esseri umani ma anche su questo rischeremmo di di banalizzare il discorso quindi per il momento Giorgio io ti voglio ringraziare per aver preso parte a questa serie di conversazioni spero che alcuni di questi spunti soprattutto quelli dove siamo stati più evasivi possano rappresentare occasioni di confronto per altri in generale ma anche per noi in questa eh e soprattutto in altre sedi visto che quello che potevamo dire in questa conversazione l'abbiamo detto in bocca al lupo per le tue esplorazioni con i piedi per terra e con la terra e come dire e la testa nello spazio e alla prossima e ciao a tutti grazie grazie Michele grazie a tutti